2 giugno Italia in festa, parata ai fori imperiali, 80 alle delegazioni estere napolitano, immagine viva e dinamica del nostro paese. Ora la parata in via dei fori imperiali, perfetto lo svolgimento della manifestazione, ha scritto napolitano al ministro della difesa alla russa, una sfilata diversa dagli altri anni, fra gli applausi della folla. Alessio Zucchini e Flavia Lorenzoni. Verde, bianco e rosso ovunque, la bandiera italiana scende dall'alto, dal Colosseo e arriva in strada. Cinque tricolori raccontano la storia del vessino. Il verde, il bianco e il rosso riempiono il cielo, a chiudere la parata, lo spettacolo delle frecce tricolore. Ma ha anche la carrozzina per il centocinquantesimo dell'Unità d'Italia, una bella fantasia. Sì, sicuramente, ci vuole fantasia per fare queste cose. Viva l'Italia!